Indagini sono state avviate dalla polizia del commissariato di Gela per chiedere in ogni minimo particolare l'episodio che si è verificato alle prime luci dell'alba di oggi. Potrebbe trattarsi di una casualità, ma il luogo in cui è avvenuto impone giustamente la massima attenzione. Questa mattina intorno alle 5.30 sulla strada che costeggia il tribunale in contrada Giardinelli è stata rinvenuta la carcassa di un cane. Non si esclude alcuna pista. Gli investigatori vogliono vederci chiaro ed è per questo motivo che sono state requisite le immagini del sistema di videosorveglianza. Nessun allarmismo, ma come sottolinevamo, la giusta considerazione del fatto senza tralasciare nulla. In relazione all'episodio di stanotte concernente l'abbandono della carcassa di un cane nei pressi della zona del tribunale, abbiamo tutto l'interesse a rassicurare l'opinione pubblica circa la necessità che non si creino allarmismi gratuiti, quantomeno fino a quando non verranno espletate tutte le indagini del caso che stiamo svolgendo attraverso la visione di tutte le immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza di zone e afferenti anche alla procura stessa. Si tratta di una carcassa già in stato di evidente decomposizione, abbandonata nel corso della notte lungo la via Livatino. Non ne conosciamo la ragione. Potrebbe trattarsi di qualunque dinamica dall'atto vandalico al semplice atteggiamento folle di qualche malintenzionato che non si sa per quale ragione specifica. Quindi non riteniamo che possa questo episodio determinare allarme o preoccupazione da parte della cittadinanza gelese. Eventuali sviluppi saranno comunque trasmessi e sarete debitamente informati riguardo a questo episodio. Grazie.